Sì, è un atto dovuto in quanto sappiamo benissimo che la sabbia per noi, la spiaggia per noi è oltre a rivestire un ruolo fondamentale a livello sociale perché consente comunque ai cittadini di potersi regare in spiaggia anche a piedi, quindi senza l'utilizzo di mezzi inquinanti quindi soprattutto l'aspetto sociale ma anche un aspetto economico perché sappiamo benissimo che ormai il nostro turismo è incentrato sul turismo balneare molte strutture si sono insediate proprio sulla sabbia e questa amministrazione ricina con la riqualificazione del lungomare Tantalichieri sicuramente ha dato un aspetto diverso a quello che è il lungomare, sicuramente è un atto dovuto perché non si può continuare ad assistere in ermi a questo fenomeno di aggressione selvaggia della sabbia Negli ultimi 50 anni c'è stato un arretramento della spiaggia di ben 30 metri facendo i calcoli e non facendo niente e quindi se le amministrazioni non si attivano tra un po' di anni praticamente non avremo più le nostre spiagge come diceva infatti anche Spagnolo sono essenziali per la nostra economia, sappiamo bene che il lavoro ce n'è ben poco se togliamo l'unica fonte o una delle poche fonti di reddito della nostra provincia iniziamo veramente ad avere dei problemi abbastanza gravi Salvare le spiagge non solo quelle ricine ma anche quelle trapanesi si trasmuta chiaramente nell'esigenza di invitare dei soggetti che abbiano delle qualifiche e dei titoli più appropriati quali per esempio il presidente della regione, il sindaco di Marsala quale autorità per l'agenda urbana e quindi anche i titolari delle attività produttive che insistono in loco perché sostanzialmente dallo studio che è stato effettuato dal professor Torre e da altri esperti nei prossimi vent'anni se non si riesce ad arginare il fenomeno dell'erosione delle spiagge non avremo più spiagge questo inciderà negativamente sul turismo, sulle attività produttive e sul commercio Professore è stata chiesta la confocazione di un consiglio straordinario a Erice proprio per affrontare il problema dell'erosione delle coste Lei già da anni ha lavorato a questo progetto, quale può essere una delle soluzioni percorribili? Prima bisogna studiare il sistema moffodinamico del litorale ma bisogna fare un passendiero per capire che cosa sta succedendo Una volta la nostra spiaggia era originata, tutta la sabbia era originata dalle calcalerintiche c'era una monte della strada, lì dove oggi sono costruite le case popolari, l'università e il cimitero Il disfacimento di queste calcarnite dava origine alla sabbia e quindi c'era un apporto continuo di sabbia in questa nostra spiaggia All'interno della spiaggia, là dove oggi c'è la litoranea nord, c'erano le dune fossili Durante l'inverno, con i venti di tramontana e di nord-ovest, la sabbia volava ma veniva impattata, quindi fermata, bloccata da queste dune fossili Oggi come si può intervenire? Oggi si può intervenire attraverso due modi, uno costruendo delle spalliere avvolgenti che blocca la sabbia dal vento Due facendo uno studio morfodinamico del litorale per sapere quali tipi, perché bisogna vedere i movimenti dei granuli Ci sono vari tipi di granuli per sapere come bisogna bloccare questi granuli e come bisogna bloccare lo scioglimento Perché noi abbiamo un motivo non solo umano, cioè non è solo l'uomo che sta distruggendo la spiaggia Ma è anche lo scioglimento degli acciaio, cioè c'è un cambiamento climatico per cui la linea di riva si va arretrando E il mare va innalzandosi